come va e bentornati sul mio canale prima di iniziare il video vorrei ricordarvi di iscrivervi al mio canale di youtube qui sotto e di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità a voi costa poco però potete aiutare il mio canale a crescere e a diventare sempre più conosciuto grazie allora di cosa parliamo oggi oggi parliamo della stampa come sempre c'è la rassegna la rassegna stampa con la stampa e così ho comprato per voi il giornale oggi l'ho pagato 1 euro di 50 come sempre lo trovate in edicola dal giornalaio quindi alcune notizie che che non leggerò per motivi legati a youtube se volete li lo potete comunque trovare direttamente dal giornalaio quindi iniziamo i grandi titoloni di prima pagina dicono conte non consentirò logoramenti e poi calore blanco il dopo festival e subito vlahovic juve debutto con il gol per il serbo e poi altre belle notizioni che adesso andiamo a vedere quindi cosa abbiamo covide l'ultimo miglio covi dell'ultimo miglio covi dell'ultimo miglio e ci sono delle notizioni interessantissime interessantissime eccolo qua perché da oggi scusate la voce da oggi partono dei nuovi del nuove cosine e ci dice speranza allentiamo le restrizioni passo dopo passo da oggi scattano le disposizioni anti dad a scuola il timore dei presidi perplessi di fronte al gruviglio di norme allora cosa ci dice di bello ci dice da oggi da oggi riduzione della dad e della quarantena per gli studenti nelle scuole poi durata illimitata del green pass per chi ha la terza dose resta il sistema dei colori valutazione del rischio nelle regioni ma in zona rossa con il super green pass non si va in lock down poi in arrivo dai paesi dell'unione europea ingresso consentito in italia anche con green pass valido nove mesi contro i sei mesi del nostro infatti non ho capito in italia siamo tutti strani il 31 di marzo ve lo ricordo finisce lo stato di emergenza e dall 11 di febbraio riaprono le discheteche e stop all'uso delle mascherine all'aperto in zona bianca sempre per quanto riguarda le restrizioni e cose varie da o dal dad quindi didattica a distanza da 10 a 5 giorni da oggi niente dad comunque dimezzata a cinque giorni per i contatti vaccinati due dosi o guariti e asili nido e materne fino a quattro casi tutti in presenza dal quinto attività sospese per cinque giorni in caso di sintomi basta l'auto test elementari fino al quarto caso tutti in presenza con ffp2 per dieci giorni dal quinto vanno in classe solo vaccinati o guariti medie e superiori si resta in presenza con ffp2 con un caso per classe dal secondo dad di cinque giorni per i non vaccinati allora qui dice che qui dice che aspettate che l'avevo trovato l'avevo trovato non so adesso dove finito l'avevo trovato vediamo un po allora si comincia entra a vedere una luce in fondo al tunnel della lotta al covi le difficoltà restano ma si stanno muovendo i primi passi verso un ritorno alla normalità da oggi infatti inizia una settimana significativa sia per quanto concerne le curve dei contagi sia per l'allentamento delle misure restrittive nella scuola e più in generale per i comportamenti da assumere e a cominciare dall'uso della mascherina ok ma c'era un'altra cosa che io avevo visto aspettate un attimo mettonati in pausa eccoci tornati allora quello che volevo dirvi era questo la buona notizia è che la curva dei nuovi casi sta scendendo in circa due terzi delle province italiane solo in alcuni casi si rileva una situazione di stasi oppure di crescita debole o frenata altra notizia scuole nel caos servono tamponi sbagliato discriminare i non vaccinati l'ex coordinatore del cds dice regole non gestibili siamo ancora a carissimo amico che non so che cosa voglia dire siamo ancora a carissimo amico se avesse 50 anni in meno a scendere anch'io in piazza con gli studenti e poi c'è l'intervista c'è l'intervista passiamo a giuseppe conte di maio non cerchi di logorarmi draghi sia coraggioso sul bilancio ecco qua ecco qua dai non cerchi di logorarmi draghi sia coraggioso sul bilancio cosa dice l'ex premier nessuno è indispensabile le correnti non possono esistere e sull'ipotesi del terzo mandato stiamo valutando decideranno gli iscritti nel movimento nessuno deve sentirsi indispensabile nemmeno io giuseppe conte dice di aver preso in mano i 5 stelle per costruire non per favorire scissioni poi altra notizia riguarda la fragile tregua e lo spettro del rimpasto nei giorni in cui beppe grillo e annunciato roma per risolvere la crisi interna il movimento vive una tregua armata ma è pur sempre una tregua e un momento di confronto ci sarà tra giuseppe conte e luigi di maio probabilmente con un'assemblea congiunta che verrà trasmessa sui social grillini poi cosa abbiamo di bello cosa abbiamo di bello centrodestra a pezzi meloni gela salvini insieme vedremo la leader di fratelli d'italia il partito repubblicano non mi riguarda il leghista contro il nuovo centro chi tradisce sparisce quindi cosa dice il centrodestra non c'è più questo è chiaro ma secondo giorgia meloni la fine potrebbe essere definitiva insieme alle elezioni vedremo io non faccio più il buon viso a cattivo gioco il cattivo gioco sarebbe quello degli alleati che quando c'è da scegliere tra coalizione e governo di leghe in te di larghe intese abbandonano il centrodestra chi vuole ricomporre i cocci avrà molto lavoro da fare la parola centro mi fa schifo renzi non lo riconosco più carlo calenda il fondatore di azione tra un anno sarò il perno della maggioranza ursula poi macerie quirinale non so che cosa voglia dire macerie quirinale adesso lo vediamo cosa dice la conferenza di mattarella al colle no la conferenza la conferma la conferma scusate la conferma di mattarella al colle ha fatto implodere le due grandi coalizioni ora si lavora per ricomporre i pezzi ma il rischio è che l'onda travolga draghi giovanni giovanni totti non so caro amico ligure che voleva era con lui voleva proprio andare a roma si era già capito dove voleva andare mister totti non totti totti e quindi abbiamo questa bellissima foto con il nostro simpaticissimo tutti insieme a berlusconi giovanni totti silvio berlusconi giorgia meloni matteo salvini lorenzo cesa e maurizio lubil a margine del vertice nella residenza romana del leader di forza italia il 23 dicembre 2021 sul tavolo ovviamente c'era già la partita del quirinale ma nessuno avrebbe immaginato che proprio le trattative sul presidente della repubblica avrebbero portato a una rottura della coalizione che ora appare insanabile il nostro giovannino totti è visto forse di dai e dai è arrivato fino a roma è bravo ma è saputo vendersi bene bravo poi cosa abbiamo a pagina 8 recovery gentiloni avverte l'italia severi sugli obiettivi da raggiungere severi sugli obiettivi da raggiungere in cosa ti dice il governo niente deficit fino ad aprile stretta sul pnrr per scongiurare la frenata del pil inflazione insostenibile per l'agroalimentare subito un piano di aiuti poi cosa abbiamo qua o pagina 9 un anno di draghi un anno di draghi un anno di draghi cosa ci dice qua 12 mesi fa il contropiede di mattarella che aprì le porte di palazzo chigi all'ex banchiere l'intesa stretta con il quirinale rimane l'astro del suo governo nonostante la mancata elezione anche quella un altro buono anche quella un altro buono poi cosa abbiamo luciana castellina le donne leader non bastano partiti casta destinati a morire le cariche femminili oggi sono simboli invece va cambiato il sistema sono felice per mattarella ma questa democrazia non funziona più luciana castellina ex e debutata e giornalista le manager sono molto aumentate ma il 95 per cento dei maschi al potere a figli mentre solo il 35 per cento delle donne ne ha questa storia va bene poi cosa c'è dopo la politica l'intervista e questa è un'intervista è che sembrava interessante smart working e cripto valute e la fine del lavoro come valore il filosofo slofeno e la lezione del covid nel suo ultimo saggio intitolato virus abbiamo bisogno di più stato e più coordinamento contro le catastrofi globali poi cosa abbiamo il mio dolore da deportata da due anni sono sotto scorta la senatrice liliana segre in un momento della cerimonia organizzata al binario 21 nei sotterranei della stazione centrale di milano il papa pop questo è un titolo che gioca sulle parole il papa pop il papa pop la dice le guerre la chiesa i ricordi francesco su rai 3 de fazio i bimbi che soffrono un mistero amo i classici e ballavo il tambo il tango allora ecco papa francesco collegato con la trasmissione di rai 3 che tempo che fa è intervistato da fabio fazio la guerra è un controsenso non sono un santo come i papi miei precedenti predecessori ho bisogno degli amici francesco nello storico collegamento con la trasmissione che tempo che fa su rai 3 dialoga a tutto campo con fabio fazio che esordisce chiedendogli come faccia a sopportare il peso di tante storie di sofferenza che incontra e conosce il pontefice risponde che tutta la chiesa mi aiuta bergoglio e fazio dialogano per circa un'ora sulla cultura dell'indifferenza e i bambini che muoiono poi cosa dice qua ok poi va avanti nell'intervista e va bene o cronache c'è un piccolo particolare una piccola parte di cronache e dice 10 morti sulle alpi 10 morti sulle alpi travolti dalle valanghe ignorati dagli allarmi nel tirolo registrato il record 13 dei distacchi di neve tra le cause l'inversione termica dopo le precipitazioni e poi c'è un'immagine qua che ho coperto che adesso vi dico sono dei soccorritori al lavoro nella località di spies nella provincia austriaca del tirolo dove sono morte cinque persone e poi incidenti anche in svizzera e alivigno due vittime sono italiane poi cosa abbiamo acque in paradiso acque in paradiso adesso vi spiego cosa vuol dire questo articolo a monesteroli simone steroli perle delle cinque terre si pensa di realizzare una stazione di pompaggio dei liquami ma il progetto finanziato con i fondi del pnrr eccolo dove finiscono i nostri soldi può mettere a rischio l'ecosistema di un angolo ancora vergine così dice come cantava fabrizio di andrea è una storia da dimenticare è una storia da non raccontare è una storia un po complicata è una storia sbagliata e la storia di chi ha pensato di mettere una fogna in paradiso un paradiso di nome monesteroli nell'estremo levante ligure a un tiro di schioppo dalle celebrate cinque terre monesteroli si raggiunge via mare o attraverso una scalinata di oltre 1200 gradini che scendono dalla collina sovrastante passando tra posti e vigneti per poi aprirsi in una discesa mozzafiato i vigneti sono parte della sua ragion d'essere nelle cantine infatti storicamente proprietà degli abitanti di biassa frazioni della spezia veniva vinificata l'uva raccolta per poi essere trasportata a spalle lungo la ripida scalinata nel borgo non abita nessuno e le cantine sono ben conservate anche se non più utilizzate molto bene o allarme degli 007 americane tradizion allarme degli 007 americani putin pronto a invadere allora allarme degli 007 americani putin pronto ad invadere chi è chiede cadrà in due giorni il report dell'intelligence si rischiano 50 mila morti e 5 milioni di profughi il crembilino speculazioni folli oggi la visita di scholtz alla casa bianca poi un errore inviare soldati in europa biden doveva concentrarsi sulla cina l'ex consigliere del pentagono la sintonia tra mosca e pechino preoccupa sulla linea di fronte a kharkiv tra i ragazzini soldato ci siamo abituati alla guerra ryan il nostro buco nero l'amore del mio marocchino è questo non posso dirlo poi c'è la rivincita di camilla qua ci sono troppe fotografie devo fare così la rivincita di camilla e ci dice da brutto anato colo diventerà regina elisabetta seconda benedice l'interra l'eterna rivale di lady diana ma la fiaba sognata da carlo deve fare i conti con lo spettro immortale dell'ex principessa triste quando brutto natrocolo diventa cigno siamo nel territorio delle fiabe e quindi nel fantastico dove arriva il riscatto che non ti aspetti camilla sarà regina lo ha detto la regina delle regine elisabetta seconda incoronandola anzi tempo durante il discorso che ha tenuto sabato per festeggiare i suoi 70 anni sul trono d'inghilterra uno degli innumerevoli giubilei ce ne sono stati di oro argento e diamante ma questo è di platino che ha punteggiato il suo regno ha detto la sovrana 95 anni rivolta al suo popolo quando carlo sarà re so che darete a lui e camilla lo stesso supporto che avete dato a me vabbè se lo dice lei contenta lei poi qua c'è un articolo che non posso dire per motivi di youtube poi invece a pagina a pagina 24 ci dice l'anno d'oro del lusso economia e finanza l'anno d'oro del lusso e questo mi sembrava interessante utili record per le maison adesso la sfida è superare social e influencer e sbarcare nel metaverso il settore del lusso non conosce crisi gioielli borse orologi e vini pregiati rimangono in cima ai desideri dei più ricchi che in tempi di pandemia hanno comprato anche più di prima il 2021 è stato un anno da primato per molti marchi che adesso si preparano a toccare altri record l'inflazione per ora rimane in secondo piano così come la crisi legata alla disponibilità di materie prime inizia invece l'espansione nel metaverso il nuovo mondo digitale qui le maison sperano di crescere in fretta e di raggiungere nuovi incassi però 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 qui vabbè poi c'è tutto un discorsone che adesso sarebbe interessante da leggere però il problema è che se ve lo leggo o questo video non non finisce più quindi lo trovate a pagina 24 della stampa e lo potete leggere da voi però io lo trovo molto interessante poi qua c'è tutto un settore della cultura che anche questa la taglio poi c'è il solito discorsione di sanremo va beh ma questo era chiaro no io compro la stampa anche per questo perché so che di trovare delle notizie su sanremo vediamo un po che cosa di chi dice di sanremo qua amadeus ancora tu amadeus ancora tu amadeus ancora tu amadeus ancora tu amadeus è come il prezzemolo sta dappertutto la rai squadra che vince non si tocca un modello per il futuro il direttore artistico onorato ma ragioniamo a menti rifusate con una media di tre ore di sonno per notte e parecchi punti di fatica in più spalmati per cinque giorni di festival re amadeus ha chiuso il suo fanta sanremo dei record che non si ferma lì perché l'organismo che ha messo in piedi vola oltre l'evento canoro e si fa sistema lo sostiene l'amministratore delegato della della rai carlo fuortes che eleva i numeri a dogmi con 13 milioni 205 mila spettatori e uno share che s'attessa sul 65 per cento dato globale questo questa è l'edizione più seguita dal 97 sì ma c'era anche tutto un discorso da tenere in mente che comunque siamo sotto covid chiusi in casa mascherine non mascherine c'è anche da dire quello è perché effettivamente anche i miei video sono aumentate le visualizzazioni non facciamoci belli non facciamoci belli che io non lo dico però se no se mi faccio bello pure io alla fine dove ne andiamo non ne usciamo più fuori a me queste cose non mi sono mai piaciute e poi torniamo a parlare di giovanotti giovanotti il miglior podio di sempre gianni sarebbe poi gianni morandi l'ora e lorenzo si è morandizzato blanco figlio del secolo fluido la sua generazione ci salverà il tocco qui della bici di diamanti il flirt sul palco con ma mud il grazie alla fidanzata bravo buon perché l'anno che forse verrà a amadeus dice no alla rai e comincia la ricerca di un nuovo conduttore tra rapimenti hacker roadmap impossibile verso sanremo 2023 amadeus terre ha raggiunto per cento percentuali di partecipazione che non si vedevano dai tempi del referendum tra monarchia e repubblica gli italiani davanti a rai 1 non erano così tanti da quella sera che il tg1 di minzolini per errore non intervisto berlusconi vabbè vabbè poi c'è la serie programmi tv c'è la se c'è l'inserto dello sport dove si parla della juve batte il verona con il gol di vlahovic e zaccaria i colpi di mercato al debutto fanno la differenza agganciata la zona cension per la prima volta dusan tutto è subito bastano 13 minuti per prendersi lo stadion finale sbagliato il toro gioca male e perde a udine decisivi in coda gli errori individuali bloccati gli estremi ai granata manca l'apporto dei giocatori di qualità poi qua deve essere una sezione credo si credo di si deve essere tutta una sezione dedicata alle olimpiadi e ci dice e ci dice dominio dominic l'allievo e poi altro articolo ha fatto il salto di qualità resterà al vertice io sono più emozionato ora che da atleta bravo piemonte open day per future mamme ora le arsel preparano il bis l'appello dei primari di cunio è importante partecipare in tutto il mondo nessun caso avverso però qui aspettate un attimo perché qua ecco ecco la dolce attesa e vaccinate covi appello alle future mamme dopo il primo open day piemontese il primario di cuneo proporremo nuove date importante partecipare qui stanno parlando perché l'avevo letto prima l'avevo letto prima ma si parla di di della somministrazione del coso lì che non posso dire su youtube sono viene fuori un casino e alle mamme incinte e non vado oltre perché sono poi succedono problemi con le visualizzazioni di youtube che blocca i video però qua c'è una notizia carina e interessante che dice sicuri in rete con la guida realizzata da tik tok e fondazione carolina sicura sicuri in rete con la fondazione tra ti tocche carolina e questo è un articolo interessante perché dice che alleati digitali fondazione carolina e tik tok stringono un patto per supportare famiglie ed educatori nel percorso online di giovanissimi il progetto si intitola genitori in blue jeans richiamando le responsabilità degli adulti invitati a conoscere l'universo virtuale dei ragazzi per costruire con loro un dialogo sulla base di un linguaggio comune l'iniziativa è promossa dalla onlus nata in memoria di carolina picchio la nova rete suicida del gennaio del 2013 dopo essere stata vittima del cyberbullismo e poi l'articolo ovviamente va avanti anche questo lo studio bellese di spa e in forma giovani tristi insicuri turbati e auto lesionisti sono i nuovi figli degli anni del co vid infatti ecco qua è vero già prima della pandemia il futuro dei giovani era segnato dall'incertezza lavoro famiglia relazioni sociali erano gravati da una crisi economica che non lasciava grande spazio a sogni ed ambizioni gli anni del coved hanno peggiorato la situazione con strascichi pesanti e per certi versi drammatici è vero è vero è vero poi andiamo avanti sicurezza delle statale tra verbani e svizzera si spendono 60 milioni bravi vediamo un po guerra dei vini così piemonte land riscrive le regole poi qua c'è il vincitore matteo romano il cantante di cuneo si è classificato undicesimo al festival orgoglioso del mio sanremo ma adesso sogno il primo disco ok poi c'è una sezione di tutto lo sport piemontese pallacanestro pallavolo calcio quant'altro e arriviamo sci ovviamente anche lo sci arriviamo al meteo cosa ci dice il mente non come saranno le previsioni vediamo un po allora nord la giornata trascorrerà con un clima ventoso e vi posso assicurare che è vero perché qua in valle d'aosta c'è un vento freddo e forte nevicate diffuse sui confini alpini e un cielo sereno o al massimo poco nuvoloso sul resto delle regioni temperature massime tra 5 e 14 gradi centro la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il centro con il cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso ci saranno locali piogge sugli appennini e sulla sardegna sud la giornata sarà contraddistinta da un graduale peggioramento del tempo con preti precipitazioni a carattere sparso anche temporalesche e nevose sotto i mille metri venti forti a quindi nord vento forte sud vento forte quindi diciamo che c'è vento dappertutto e poi ovviamente la stampa finisce così con la con la con il meteo bene 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 le notizie di oggi ci siamo detti quindi il video finisce qui ti ringrazio per avermi guardato ti ricordo di iscriverti al mio canale di youtube qui sotto e di attivare anche la campanellina così sarai sempre aggiornato su tutte le prossime novità ci vediamo comunque in un prossimo aggiornamento sempre qui sul mio canale di youtube ti aspetto ciao